Siete contenti del premio? Che cosa valorizza del lavoro di un anno in questa pratica? Beh, diciamo che è un bel riconoscimento, ci fa piacere ovviamente. Dietro c'è veramente molto lavoro, non solo della nostra direzione, ma c'è stata una collaborazione da parte di molte funzioni aziendali che ha poi portato a un buon risultato che stiamo tra l'altro chiudendo in questi giorni, abbiamo chiuso tutte le fasi e è veramente una bella soddisfazione. Quindi non solo per noi come direzione legale, ma per tutti i colleghi che hanno collaborato, perché è stato veramente un lavoro di team.